Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, ma la speranza si è spenta definitivamente sabato pomeriggio, tre giorni dopo l'incidente. Non ce l'ha fatta Francesco Margherito, il ragazzo brindisino di 28 anni, travolto mentre era in bici da una Fiat 500 sulla complanare della 379 Brindisi Bari, nei pressi del santuario di Iaddico. Il suo cuore ha cessato di battere alle 8 di sera, subito dopo sono state avviate le procedure per il prelievo degli organi che, come espresso in vita da Francesco e confermato dai suoi familiari, serviranno a salvare altre persone. L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio sulla complanare sud, a poche centinaia di metri dal santuario di Iaddico. Francesco Margherito era in sella a una bici elettrica con pedalata assistita a breve distanza dalla sua abitazione, che si trova nei pressi della chiesa, quando è stato investito da una Fiat 500 che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Il ragazzo, nell'urto e volato contro il parabrezza dell'auto sfondandolo, immediatamente soccorso prima dal conducente della vettura e poi dal personale del 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Brindisi e ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni si sono aggravate nel pomeriggio di sabato, quando è iniziato il periodo d'osservazione sino alla dichiarazione del decesso e all'arrivo delle equip incaricate del prelievo degli organi. Grazie.